Ti do un comandamento nuovo, dice il Signore, come io ho amato voi, così amatevi anche voi per più gli altri. Alleluia, il Signore sia con voi e con il tuo Spirito, dal Vangelo secondo Luca. Alleluia, il Signore. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri amici, fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici. Fate del bene e prestate senza sperarne nulla. E la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete incondannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato una misura buona, pigiata, colma e traboccante e vi sarà versata nel greco, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Laudate a Cristo.